Ciao amici di Italia Top Games, buon inizio di settimana, lunedì 10 agosto, 35 giorni all'uscita di PES 2021 e oggi ho pure cambiato l'headset per le cuffie, spero che si senta tutto bene, fatemi sapere le vostre considerazioni in merito all'audio di questo filmato, ho dovuto fare un po' di tentativi, di esperimenti perché è sempre così quando si cambia headset comunque oggi nuovo aggiornamento di PES 2020, ci sono tante novità, qui vediamo i giocatori in risalto che sono quelli di giovedì, del match day vi ricordo che questa settimana il match day, anche questa settimana c'è solo sabato e domenica, quindi ferragosto e post ferragosto se volete fare il match day dovete decidere cosa fare la prima cosa da vedere è la posta in arrivo dove troveremo, ecco qui, altri tre giri di leggende gratis questa settimana ci sono i World Wide Clubs, non solo giocatori europei dunque, quindi World Wide Clubs e allora andiamo subito a vedere cosa c'è, cosa c'è, cosa c'è e allora ricordiamo che ci sono le leggende e poi ci sono appunto i giocatori del match day di giovedì scorso come potete vedere questa settimana tutte leggende di tutti i tipi ma soprattutto con i GP 25.000 GP, ecco questi sono in player of the week, per sicurezza li andiamo a controllare ma la cosa importante è che appunto ci sono le leggende, se vi mancano i bonus vi mancano le leggende per i bonus poederani questo è il momento giusto abbiamo tre giri gratis e poi se vogliamo possiamo usare i GP eccolo qui Maradona, quello tosto, non quello dell'Icon, un po' scarsino, quello da 97 ecco, vediamo un po' i parametri e cosa vuoi dire a Maradona a 97 poi abbiamo Ronaldo, Messi, c'è Zico a 92 Neymar che non è una leggenda vabbè, Kahn Beckenbauer che piace a tanti ma io non ho mai pescato lo stesso Rummenig 91, niente male Aguero, Hazard, Lewandowski, Van Dijk, Sergio Ramos, Oblak Mbappé Iniesta, leggenda Van Basten, 90, sempre un po' pochino secondo me Gira devastante a centrocampo il giocatore più importante per me di quest'anno insieme a Cristiano Ronaldo Nedved, CLS89 Batistuta Gullit, Benzema Adriano, Beckham Figo, Maldini Roberto Carlos Rivaldo Pirlo ce la metterò anche allenatore adesso è non solo leggenda David Silva Boomeyang Tiago Pogba Canteculi Balide Piero Pugliel Reichard Casiglia Scaffure Coba Lovin insomma di leggende ce ne sono tante Nakada pure 86 Vidal Dzeko Alaba Delict Pachizung Cordoba Ibrahimo Icciarciau Alexander Arnold Fernando Torres e poi vediamo un po' se c'è qualcun altro sotto gli 84 o meno quindi i giocatori ce ne sono tanti ma ormai mancano 35 giorni a PES ragazzi 35 veramente a PES 2021 ovviamente che lo ribadisco non è un DLC non serve PES 2020 per giocarci perché ancora arrivano queste domande sul canale youtube sul gruppo facebook eccetera eccetera va bene giriamo facciamo questi primi tre giri di agente gratis e vediamo se servirà altro no iniziamo subito bene prima leggenda a me me ne mancano due per arrivare a 13 e quindi avere il top dei bonus veterani vediamo un po' chi pesco chi pesco è Roberto Carlos è lui è lui è lui è lui è lui è già è già è proprio lui quasi mi viene voglia di ricominciare a giocare a PES 2020 chissà qualche partitina cerco di farla la prima volta in assoluto che ho Roberto Carlos quindi sono davvero davvero felice poi Denis Suarez eccetera va bene eccoli qua l'abilità gestionale ormai non mi serve più secondo giro ultima leggenda mi serve l'ultima leggenda vediamo 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 ecco scusate mi ero sbagliato facciamo il secondo giro oh e si a posto io sto sistemato per PES 2020 vediamo chi pesco chi pesco oh non l'ho riconosciuto ancora è Beckham 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 sì 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 è Beckham Ale eh beh fare queste pescate il 10 agosto fa venire quasi più il nervoso perché cioè due giocatori che sarebbero stati titolarissimi durante tutto l'anno pure Alaba sì adesso terzini sinistri come se non ci fosse un domani appunto non c'è un domani perché mancano 35 giorni a PES 2021 va bene io sto a posto però facciamo anche quest'ultimo giro di agente se no avrevo seletto IGP vediamo un po' che succede Inghilterra niente leggendo ovviamente Chelsea pallone nero Kanté mi sembra lui vediamo io i numeri non me li ricordo sì però è lui Kanté Kanté molto bene molto bene cioè molto bene ormai chi se ne frega non ci gioco più a PES 2020 ragazzi un po' di pausa fra PES 2020 e 2021 dobbiamo mettere se no veramente non c'è soluzione di discontinuità e va bene facciamo un altro giro dai che ci frega tanto per vedere chi peschiamo andiamo in Italia Milan e questo è che sì decisamente che sì decisamente che sì d'accordo bene così peschiamo anche Luiz Adriano e Marin eccoci vabbè allenamento tattico chi se ne frega e quindi andiamo un attimo a contare le leggende Icon per sicurezza vediamo un po' se ne sono davvero 13 scusate un attimo di impasse mattina molto presto di lunedì allora andiamo un po' a contare qui ci avvierà numero 1 bene qui nessun altro poi si scende fino a Cruyff 2 bene Maradona 3 Can 4 scendiamo qui niente 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 Iniesta 5 Paci Sun 6 Puyol 7 Beckham 8 Zanetti 9 Roberto Carlos 10 Campbell 11 Van der Waart 12 Lizarrazu 13 Tac Siono sono davvero a posto bonus veterani il massimo ce l'ho andiamo a vedere un po' le challenge cosa c'è di nuovo oggi vediamo vediamo ve l'ho detto mi sembra si è il match day solo sabato e domenica mi raccomando se no arrivano 2000 domande sul gruppo soprattutto no oggi domani riparte a ferragosto il match day sabato e domenica 5 ore qui abbiamo il trainer challenge online vediamo una partita vinci la partita premio per la prima volta preparatori di abilità 9 saldi di fine stagione io preparatori di abilità sono una di quelle cose che cambierei in my club onestamente non si comprendono bene come vanno a impattare sulle partite e anche il numero limitato la possibilità di non scegliere insomma a me non piacciono non so voi ma a me non fanno davvero 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 impazzire andiamo a vedere comunque anche la coppa challenge contro com ce n'è solo una oggi vediamo i premi una partita vinci la partita a 15.000 gp non te ne fa fare neppure tre Konami te ne fa fare solo una e tira subito 15.000 gp ripeto saldi di fine stagione bene ragazzi per oggi mi sembra che a questo punto sia tutto noi ci aggiorniamo giovedì con il prossimo filmato ipest 2020 chissà che prima non arrivi qualche altra notizia da commentare sul blocco ipest italia vi aspetto sempre vi aspetto sempre su italiatogames.it videogiocere gratis.it playnextgen.it vi ringrazio come sempre l'attenzione fatemi sapere il vostro feedback sull'audio mi raccomando e a prestissimo buona settimana a tutti e a presto ancora ciao ciao